Siamo a Varano in occasione del secondo appuntamento stagionale del Predators Challenge in compagnia di Marcello Melchior Allora Marcello, la tua seconda gara in questo campionato, innanzitutto ti chiedo le tue impressioni essendo una new entry di questa serie così prestigiosa Beh, le auto sono veramente veloci anche con questi motorini piccoli perché alla fine pesano 400-450 kg con me sopra e quindi veramente si raggiungono velocità assurde che io non ho mai provato fino adesso ed è molto molto adrenalinico Senti, quali sono le tue esperienze in ambito agonistico? Sappiamo che ti stai dando un po' da fare in quest'ultimo periodo oltre alla Predators e ti abbiamo visto in pista anche in altri contesti Io ho iniziato a correre con la Formula Driver che mi ha veramente insegnato tanto e li ringrazio moltissimo perché senza di loro non avrei mai iniziato a correre e poi ho avuto esperienze con la Twingo Cup, molto bella anche se non c'è molta cavalleria ma la lotta in pista è veramente unica, molto al centimetro e qua ogni tanto mi è capitato di fare una gara su terra con un A1 e ci andrò anche prossimamente con un mio amico che mi dà una macchina e via, basta Go-kart, go-kart indoor, quindi piccole cosette però insomma la passione è tanta e mi spinge sempre a fare qualcosa di nuovo, è bello Sappiamo che sei ancora in una fase di apprendistato con questo campionato però raccontaci un po' il tuo feeling nel salire a bordo di queste monoposto e poi quali sono le tue aspettative per questo weekend di Varano Allora queste auto qua sono abbastanza nervose devi avere molto pelo sul stomaco a portarle in curva perché tendono sempre a portarti sull'erba e poi questo weekend qua spero di fare bene l'altra gara mi sono beccato una penalità in qualifica poi il passo era quello che era quindi insomma ho fatto una bella partenza sia in gara 1 che in gara 2 mi fa un po' paura la prima chicane però speriamo di fare bene Allora grazie Marcello Melchior, in bocca al lupo e naturalmente buon divertimento con le gare del Predators Challenge Grazie a tutti